ecco buongiorno è oggi la bonus track delle nostre lezioni e stanno andando stanno andando la grande e a tal punto che insomma abbiamo deciso di fare una una sorta di riunione familiare insomma i due fratelli bruni che si rincontrano da oakland da palermo e a questo punto gangat t'avverto probabilmente la la conduzione sarà la tua perché insomma avete una certa confidenza e benvenuto a checco che naturalmente è il timoniere di una rossa e abbiamo analizzato in ogni modo le le sue partenze poi faremo vedere un video ciao a tutti bene ganga allora la prima domanda che ecco fagliela direttamente tu così stiamo stiamo già tranquilli a proprio così il livello di confidenza da 1 a 10 per le prossime regate dai così buttiamola sul solo per la prada cup livello di confidenza buono dai diplomatico molto diplomatico 8 8 8 comunque non è male comincia ad essere già interessante la questione ottimo non l'ho preso a scuola manco una volta io quindi è buono dai senti e invece la situazione col software diciamo che è migliorata oppure stiamo ancora dobbiamo sentire altre bestemme diciamo le cose come stanno io non volevo dire che la mamma che la mamma si è cappottata sul divano o niente negare fino all'infinito negare no perché c'è stato perché c'è stato un certo punto tuo fratello che segnalava questo no perché sai ho sentito che ecco non era proprio molto contento del software dico guarda te ne sei accorto tu e altre tre quattrocento mila persone no stavo scherzando dai sono cose che capitano sono cose che capitano dai io volevo vedere se che ecco a voglia e di noi abbiamo fatto noi stiamo facendo delle lezioni molto basic per gli utenti di caprera che è un posto meraviglioso e abbiamo commentato quella partenza che a me è piaciuta moltissimo contro la prima regata di voi contro team ineos dove è stato fatto quel al minuto quel quella mossa bellissima dove ineos ha preso la penalità se ti va di commentarla con noi che dai un punto di vista un po più tecnico penso che potrebbe fare piacere noi siamo stato siamo stati basic livello basic per cui se ti va che ecco quella potrebbe essere un buono spunto vero vincenzo assolutamente sì però addirittura farei di più gli farei vedere il video in cui tu la commenti perché era leggermente di parte mettiamola così ah ok va bene quindi metto metto il video e ci mettiamo l'audio la vedete entrambi sì io sì perfetto allora questo è tuo fratello che commenta le le tue regate con i foil quindi nessuno si sarebbe aspettato tanto che il motivo per cui ho scritto su facebook insomma siamo attenti ai commenti che mentre tutti commentavano e parlavano dei foil è accaduta questa cosa qui e non se ne accorto nessuno nessuno si è accorto che c'era stata una penalità nessuno si è accorto che era stato parcheggiato bene questa è una cosa che mi ha fatto diventare pazzo erano lì tutti a parlare il foil più piccolo il foil più grande termini super tecnici quando stava accadendo una cosa storica una cosa non solo storica ma una cosa anche cioè tradizionale se vogliamo tradizionale ci siamo capiti insomma ci siamo capiti di quelle che piacciono ai tradizionalisti e sì devo per forza interrompere perché è proprio qui l'arte della manovra la teoria la sappiamo tutti ma riuscire a fare con anche con le barche piccole ma soprattutto con queste barche così veloci l'esecuzione così perfetta guarda che ti assicuro c'è questa è una manovra unica io l'ho riguardata al computer conosco i secondi alla perfezione di questa manovra perché è stata eseguita da che ecco e da james perché tutta la prima parte del muro a sinistra la fa ecco guidando non è timonato ok imposta la virata una volta che la barca supera la plural vento e si mette mura dritta prenderà il comando james pittin il quale fa un'altra opera d'arte che è stata quella di tenere parcheggiata la barca degli inglesi che addirittura gli scadono dietro gli toccano la poppa lo vedremo dopo per cui l'esecuzione è la vera opera d'arte troppo di parte ecco questo è il tuo fratello che fa l'omero della situazione mi sono detto moltissimo ad ascoltare ganga che devo dire no ha detto tutte cose giustissime soprattutto ha fatto capire bene che era stata una bella mossa fatta in due io sicuramente io ho alzato la palla in cielo e lui l'ha schiacciato sicuramente questa manovra la chiamiamo tech and lock ovviamente viri sotto vento e blocchi l'avversario e si faceva anche nel match race tradizionale adesso le tempistiche sono un po un po diverse perché come ha detto giustamente ganga adesso passi la prua al vento e diventi barca con diritto mentre prima dovevi completare la virata su una rotta di bolina stretta prima di acquisire il diritto e quindi è semplicemente cambiato il momento in cui acquisisci il diritto che permette forse alle barche di essere ancora più vicine rispetto a una volta cioè terminare questa manovra tra di loro più vicine allora mi interrompo un secondo solo per chiarire la il discorso dell'attacca in lock che hai nominato come se facciamo didattica allora a differenza di un alibau che sto disegnando dove navica una barca mura a sinistra che incrocia una barca che navica mura dritta sono in rotta di collisione di fatto e diciamo che la per la regola 10 la barca che ha mura dritta ha diritto di rotta appunto allora andando diciamo sul frame successivo a quando avviene effettivamente l'avvicinamento delle due barche troveremo due barche una sotto vento una sopravvento perché insomma la barca che ramura a sinistra gli vira sotto e gli dà anche rifiuti quindi tendenzialmente può andare avanti e costringerà l'altra a virare quindi non necessariamente insomma però dovrà potrebbe doverlo fare a differenza dell'attacca in lock che più o meno è la stessa cosa o esattamente la stessa cosa con la differenza disegno un secondo una linea di partenza perché succede appunto su sulla linea di partenza dove l'avvicinamento in sostanza è lo stesso quindi una barca che naviga mura a sinistra è una barca che naviga mura dritta succede esattamente la stessa cosa ma viene la barca che è mura dritta parcheggiata come come dice come dice il nostro ganga in sostanza proprio al vento e quindi di fatto gli viene chiuso il box della partenza quindi vige la regola 11 della barca appunto sotto vento e la barca che si troverà sopra vento non potrà poggiare e di conseguenza è chiusa quindi lock sulla sulla parte destra della partenza sicuramente è più complesso eseguirla ad alta velocità è più rischioso è stata eseguita benissimo un team che sinceramente era un team zoppo ma nel senso che in quel in quel in quell'occasione devo dire che non ci sono giustificazioni che tengono perché il cant l'arma è andato giù la deriva gli ha funzionato eccetera quello che è evidente che ben era un periodo in difficoltà ecologicamente a lui bastava finire noi non gli abbiamo fatto neanche iniziato diciamo però l'avete aiutato a deprimersi l'avete aiutato a deprimersi però io io ho un rispetto totale un'adorazione totale nei confronti di benesili perché come benesili ce ne sono due o tre e basta e ho avuto la fortuna di crescere diciamo suo ecoetaneo e di dividere tante cose con lui tante esperienze o un rispetto eh pazzesco e so benissimo che in quel in questo periodo eh è stato un periodo molto difficile per lui lo è evidente a tutti eh ma eh il uno dei dei veri eh re incontrastati della vela mondiale ehm cioè avere una barca che con tutte quei con tutti quei problemi so benissimo che l'ultima l'ultima cosa a un cane randaggio che lo azzannava qua sulla gola e non lo faceva partire per cui lui io penso che non era molto concentrato sulle partenze secondo te che è una questione di cioè ritardo soltanto proprio proprio la barca che ha dei problemi cioè te lo dico già eh non è un non è un segreto perché se guardi video su youtube di quest'ultima settimana ti accorgerai che gli inglesi si sono già messi a posto eh sono molto più competitivi di come erano la Christmas Cup la Christmas Cup hanno avuto una serie di difficoltà una dietro l'altra eh evidenti eh e quindi io sono sicuro che gli inglesi vanno trattati con rispetto eh eh non con paura ma con rispetto e che faranno delle belle regate ne sono sicuro l'ho visto nei giorni scorsi come navigano sono miglioratissimi hanno fatto delle modifiche ai foil hanno hanno rimesso i vecchi e e vanno molto meglio Ganga ecco giusto per giusto per diciamo eh essere più precisi qua dall'Italia guardando le regate è evidente a tutti che Ben ha avuto delle difficoltà e c'è un totale rispetto da parte di tutti sottolineo le stesse cose che hai detto anche tu anch'io conosco Ben ho avuto la fortuna di farci i regati insieme e sappiamo quanto può essere stato diciamo eh in crisi in quella situazione però tutti sappiamo che lui può ritornare in sella alla grande per cui è temibilissimo ed è giusto da io penso che è giusto avere rispetto per tutti gli avversari che fanno quelle regate lì perché non ce n'è uno che non è che non è buono però eh c'è tanto tifo da parte dell'Italia per voi perché quello che si vede da fuori è che la barca è che l'equipaggio gira bene per cui eh siete sicuramente un equipaggio che può dire la sua ma alla grande questo è quello che viene fuori dall'Italia adesso siamo lontani voi siete in Nuova Zelanda noi siamo qui eh però la percezione è quella io credo che hai hai detto bene come sailing team eh siamo abbastanza eh compatti eh lavoriamo bene insieme eh la barca va discretamente bene abbiamo avuto delle condizioni in cui eh abbiamo sofferto eh sono evidenti a tutti perché eh con vento forte sicuramente i neozelandesi eh avevano qualcosa in più nella giornata in cui eh nella giornata in cui ci hanno dato tre più di tre minuti eh la barca io credo che sia molto migliorata da quel giorno noi siamo migliorati perché abbiamo visto gli errori che abbiamo fatto e quindi io credo che che ci fosse la stessa regata con le stesse condizioni non sicuramente eh sono abbastanza sicuro che il distacco non sarebbe quello eh detto questo non mettere i kiwi da parte per un attimo concentrare a vincere a vincere contro gli americani gli inglesi con gli americani abbiamo visto che con cos'erano quindici nodi quel giorno lì eh era regata era coltelli in mezzo ai denti e chiunque poteva vincere eh non c'erano grossissime differenze di performance tra le barche eh e mi sento di dire che la barca piano piano sta migliorando migliorano anche loro per cui è veramente una lotta difficile però insomma ce la stiamo mettendo tutta stiamo lavorando e questo si vede che ecco nel senso che tra l'altro tra l'altro le le persone si stanno appassionando io credo che anche chi è più tradizionalista non foil perché non è più bella c'è sempre la il gruppo che si sta restringendo sempre di più poi alla fine perché l'impressione le guardano anche loro le regate dicono che non le infatti infatti no ma poi io scusa finisci finisci ti ho interrotto poi devo fare un'ultima io ho da fare un'ultima domanda che ecco perché poi magari ha altre cose da fare ma eh la percezione è cioè secondo te eh se chiedessimo a tutti i team vorrebbero tutti sei mesi di tempo in più perché sembra che da parte di tutti vabbè abbiamo visto ben che ha avuto le sue difficoltà però è come se eh da fuori sembra che manca ancora un po' di tempo per essere perfetti in alcune cose ehm che lo sarà sì credo che sarà sempre così però io credo che adesso se lo chiedi a tutti e quattro i neozelandesi ti dicono ovviamente di no perché dicono beh noi siamo ci sentiamo meglio degli altri hanno hanno vinto abbastanza bene quelle regole con un distretto eh punteggio è una devo dire che hanno dimostrato per adesso di essere il team da guardare però è molto difficile per noi perché dobbiamo veramente concentrarci su quegli altri due adesso eh detto questo dagli dai neozelandesi abbiamo imparato molto abbiamo imparato molto eh per fortuna grazie a tutte queste che abbiamo a bordo eh al fatto che abbiamo preso alcuni dati eh delle altre barche eh quindi è stato veramente importantissimo per noi i neozelandesi non sono non solo erano più forti durante la Christmas Cup ma soprattutto hanno un po' più di tempo perché hanno un paio di mesi in più eh di sviluppo da poter usare però è anche che ecco che alla fine adesso voi con con la parada che fate essendo competizione vera alla quale poi eh non partecipa avete tempo per colmare un po' di gherbo o no? Mai aiuta il fatto di regalare l'abitudine alla regata no? Arrivai sicuramente la regata vista proprio a 360 gradi dalla preparazione della barca agli orari a tutto eh la regata alla fine è uno dei migliori allenamenti che puoi fare eh detto questo quando fai le regate hai meno tempo per sviluppare perché c'è sempre il rischio che se fai troppi aggiornamenti poi magari l'equilibrio esatto capisci bene che se fai troppi modifi e troppi aggiornamenti eh sono un rischio no? Devi aumentare la eh affidabilità del mezzo e un modo per per aumentare l'affidabilità del mezzo è non continuare a cambiare tutte le cose dall'ultimo momento per cui è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Senti ultima ultima cosa poi dopo non non vi disturbo più entrambi eh tu adesso naturalmente avete il mura sinistra che è la parte tua e la mura dritta che è la parte di di James no? Avrete costruito un certo affiatamento diciamo così? Speriamo. Comunque nel tempo siete due comunque due super professionisti vi lo fate anche insomma. Adesso ho mai un problema mettiamola qui. Mettiamo caso che al posto di Spitil ci fosse stato Ganga. Ehi ma manco non manco facevamo la partenza non scherziamo neanche Vincenzo io ti ringrazio per la stima che hai di me ma non lo fare neanche quest'esempio. Vabbè mettiamola buttiamola sul solo sull'umorale al di là della conduzione facciamo finta che James e Ganga la timone nello stesso modo. No è proprio un morale. Sarebbe stato divertente sicuramente divertente. Sicuramente avrebbero tante risate. Dici che toglievano l'audio spesso eh? Guarda non mi trattengo con Jimmy dall'altra parte di quella di Hong Ganga. Ciao. Chi è che comanda a bordo di voi due? Cioè chi è chi è più il più cattivo dei due? Dici quando siamo andati in barca insieme? Sì quando andati in barca insieme e quando siete andati in barca? Beh noi io sono del vecchio stampo per cui comanda il timoniere non per per diciamo comanda eh tra virgolette nel senso tattica queste cose più il prodiere è più un esecutore uno che tiene l'equilibrio in barca ma l'ultima parola aspetta sempre l'altimoniere ahimè per i prodieri ma è così. Sì questa era l'impostazione. È vero. Però insomma Ganga praticamente insomma uno che va sempre ascoltato e poi alla fine dai. Sì ogni tanto a sé. Assolutamente. No Ganga era molto bravo nella nella gestione del concetto di rischio beneficio. eh anche se era secondo me ogni tanto era un pochettino troppo conservatore quindi ci scontravamo un po' su questo rischiava poco però tante volte aveva ragione cioè tante volte il rischio non pagava. Ganga che ti fai dire? Eh beh ora adesso da allenatore adesso da allenatore mi hai mandato in testa d'albero con l'adrizio di Randa e l'ambaglio a rimorre. Che cazzo conservi? Sì sì scena è bellissima a Caprera quest'estate ma insomma. Senti che ecco tu vieni a Caprera? Fate fatemi un corso tuo e tuo fratello? No. Chiederebbe moltissimo in a Caprera se avessi il tempo cioè lo farò te lo prometto. Troveremo troveremo l'occasione moltissimo sono stato solo una volta e ci tornei stravolentieri. Ci abbiamo i wasp quindi adesso non è il morto però insomma per per le condizioni di Caprera il wasp va più che bene. Ottimo ottimo. Io libererei Checco che mi sa che domani ha tanto da fare. Lo vogliamo. Senti che ecco grazie mille eravate siete impegnatissimi quindi capisco ti ringrazio per il servizio. Sai cos'è manca poco alle regate. Qua è il prossimo è meno di una settimana infatti la prima la prima giornata che credo ci vede contro i Neos mi pare. Sì. Noi vi seguiamo e con Ganga le commenteremo quindi esaltamelo il ragazzo perché poi dopo mi mandi messaggi. Io ho mandato un link a Ganga con dei video che fanno qua in sede. Non so se l'hai visti poi Ganga. Me l'hai mandati di notte che dormivo adesso mi guardo con piano. C'è un tipo qui locale che fa dei video bellissimi e mi sa che tra ieri e oggi anche avrà fatto dei video. Oggi abbiamo fatto una giornata bellissima perché per la prima volta c'è stato un allineamento casual a tre barche. Noi gli inglesi e gli americani. Un paio di boline tutti insieme. Credo che saranno delle riprese. Possiamo vedere anche noi poi. Sì poi ti mando il link Vincenzo. È un link è una cosa di YouTube quindi ti auguro per vederlo. Ma sono riprese molto belle. Ragazzi grazie. Noi ti fiamo più forte che possiamo. Ganga canta le tue gesta. Io provo a metterci qualche disegnino, qualche lezione. Forza l'una volta. E grazie per le emozioni che ci avete dato fino adesso. Ciao ragazzi. Buonanotte. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Un abbraccio a tutti. Ciao Checco. Ciao.